Ciao a tutti, come state? Spero stiate tutti bene. Allora, questo video è fatto di mattina per fare colazione con voi. Mi sono svegliato un po' prima e quindi ho detto, vabbè, quasi quasi giro un video dove faccio colazione con voi. Anche perché ne feci già uno e vi era piaciuto comunque. Scusate se sentirete traffico, moto, macchine, però ho la finestra aperta del cucinino, sennò si morirebbe di caldo. Allora, io alla mattina faccio colazione solitamente, lo faccio quasi sempre, a volte mi dimentico perché non ne ho voglia. Però oggi ho caffè e latte. Con due cucchiaini, inini, inini, inini di zucchero. Tanto non so se notate qui, vedete? Ieri praticamente con le pinzette ho scavato la pelle, la carne, per togliermi un pelo che era sotto pelle. Non vi dico dolore, che ora mi si è fatta la crosta di ciò, interessante. E poi da buon genovese. So che per tanti la focaccia al mattino può sembrare strana, ragazzi. Fidatevi che qua a Genova è normale, è così. Non durerà proprio tantissimo questo video. Non durerà proprio tantissimo questo video. Scusate per il rumore, ma... Scusate per il rumore, ma... È così. Scusate per il rumore, ma... Con un nuaggio. Non durerà proprio... Non durerà. Non durerà. Non durerà proprio... Non durerà. Non durerà proprio... Stavo cercando il telefono E ci sto riprendendo Niente, lasciate perdere È mattina Sono più ringoglionito Più del solito 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti